Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con tutto quello che è successo qui perché stamattina vediamo tantissimo verde sulla maggior parte delle criptovalute addirittura ci sono alcuni nomi con un più 30%, più 25%, più 20% ieri vi ho parlato del rialzo dei tasse di interesse ho ascoltato tutto il discorso di Jerome Powell durante la conferenza stampa quindi sono trapelato alcune notizie positive in questo video voglio assolutamente parlarvene soprattutto voglio anche parlarvi di questa mail che ho ricevuto da Crypto.com per quanto riguarda i depositi e i prelievi in valuta fiat in questo caso euro quindi interessa a tutti noi che siamo in Italia quindi come al solito restate fino alla fine di questo video perché è davvero molto importante però prima di iniziare è fondamentale anche lasciare un mi piace a questo video basta un clic mi supportate se non siete iscritti ragazzi ovviamente iscrivetevi assolutamente al canale per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi cosa io pubblichi detto questo ragazzi adesso iniziamo subito dalla notizia di Crypto.com perché il 24 gennaio già abbiamo tutti ricevuto la mail che non potevamo più depositare euro e per adesso diciamo hanno di nuovo ribadito di non inviare fondi al vecchio indirizzo IBAN perché questi depositi in euro potrebbero non arrivare sul wallet e verranno mandati indietro per adesso però vi dico di non fare questi movimenti perché potrebbe essere rischioso e potreste poi non ricevere più soldi indietro inoltre ragazzi a quanto pare non si può neanche prelevare euro in questo momento ma questo perché? Perché è successo? Perché stanno avendo dei problemi con l'emittente che utilizzavano prima quindi la banca che utilizzavano che faceva da tramite per poi inviare i bonifici quindi stanno risolvendo questo problema e qui hanno specificato che ci sono diverse opzioni per utilizzare la carta ad esempio si può utilizzare la carta di Crypto.com per prelevare euro si può caricare la carta e poi si possono prelevare i soldi in qualsiasi ATM oppure si possono comprare e vendere criptovalute utilizzando l'euro e poi depositare e prelevare cripto direttamente quindi non euro si possono inviare i dollari tramite il circuito Swift però non interessa perché utilizziamo poi quello SEPA però in questo momento ragazzi vi dico che c'è questo problema quindi non inviate per favore fondi perché sto ricevendo tantissimi messaggi ogni giorno su Instagram addirittura su Twitter quindi non depositate euro perché per ora non si può e i soldi vengono ridati indietro con 4-5 giorni di ritardo e soprattutto per ora ancora non si può prelevare e vi dico che vi aggiorno quando so qualcosa in più però per ora questa è la situazione adesso ragazzi passiamo un secondo al Bitcoin Firmid Index perché siamo al numero 60 e siamo in avidità e quindi questo potrebbe essere molto molto interessante diciamo se continuiamo a salire, se raggiungiamo livelli sui 70-80 potremmo vedere i prezzi ovviamente salire di conseguenza perché il sentiment di mercato è molto importante non vedevamo il numero 60 da diciamo da marzo, da fine marzo 2022 quindi quasi un anno abbiamo raggiunto anche il numero 61 il 30 gennaio però ripeto questi livelli non si vedevano da quasi un anno che tantissimo tempo davvero voglio anche aggiornarvi sul mio trade ragazzi perché in questo momento ho un trade aperto long su Bitcoin sono entrato intorno a 23.000 super giù una settimana fa all'incirca in questo momento ho messo il trade in pareggio quindi non perdo nulla se il prezzo torna indietro ho impostato qui lo stop loss e ho preso già un profitto di 210 dollari e adesso sono in profitto di 300 dollari il mio target ovviamente è sui 25.000 qui in alto il take profit intendo è qui in alto all'incirca sarà un profitto di 800 dollari più 210 già presi quindi di 1000 dollari io vi parlo sempre dei miei trade che apro perché li apro eccetera e in questo caso ragazzi ripeto sono in profitto e ho impostato lo stop loss in pareggio e aspetto 25.000 per chiudere in automatico ma se non ci arriviamo non fa nulla perché una parte del profitto già è al sicuro già l'ho presa per quanto riguarda ragazzi le liquidazioni vediamo un numero abbastanza interessante perché nelle ultime 24 ore sono stati liquidati 134 milioni di dollari in criptovalute tra Bitcoin, Ethereum, Aptos, Solana e tutto il resto la maggior parte delle liquidazioni è avvenuta long perché la maggior parte delle persone si aspettava che il prezzo di Bitcoin scendesse invece di salire e per questo la maggior parte delle posizioni sono state chiuse in questo caso ragazzi vediamo un rimbalzo perfetto sul grafico qui questa è un'area che sto monitorando per aprire i trade a livelli e infatti poi il prezzo toccando qui su questo supporto questo qui è il grafico delle 4 ore quindi ieri abbiamo visto un rimbalzo molto marcato e ora prossimo target ragazzi assolutamente sono i 25.000 mi aspetto un'altra piccola correzione prima di arrivarci e qui potrei aprire un trade short perché è un'esistenza davvero molto importante già toccata in passato, già ve lo dico spesso toccata qui ad esempio agli inizi di agosto abbiamo visto il crow di FTX e Bitcoin è sceso su 15.000 dollari quindi l'esistenza è importante questa qui di 25.000 e qui uno short andrebbe bene uno short un po' più a scalp diciamo non ha una posizione molto lunga a livello di giorni perché diciamo che Bitcoin è razionale e potrebbe anche raggiungere i livelli che nessuno si aspetta per ora quindi come al solito ragazzi restate aggiornati con i miei video perché cerco sempre di portarvi contenuti diciamo più veloci possibili e più dettagliati possibili ieri abbiamo visto la Fed Powell ha specificato sì che l'inflazione sta scendendo fortunatamente ma il loro obiettivo è di raggiungere il 4% addirittura il 2% come i bei vecchi tempi però è abbastanza difficile raggiungere quelle cifre in questi anni nonostante ciò però Powell ha specificato che l'inflazione sta scendendo e questo significa che la politica monetaria ha avuto effetto e ci sono dei dati macroeconomici da osservare questa settimana ancora perché ad esempio venerdì abbiamo l'unemployment rate alle 2.30 ore italiane abbiamo anche i non-farm payrolls sempre venerdì e quindi questo potrebbe essere diciamo sono dei dati importanti per capire l'economia se è forte o meno perché se l'economia rallenta potrebbe essere positivo per la Fed e la Reserve e quindi potrebbero poi a marzo non alzare i tassi di interesse in maniera aggressiva e potrebbero avere diciamo un atteggiamento meno hawkish e più dovish più bullish quindi più placato e ripeto potrebbe essere questo molto molto positivo per i mercati per ora la maggior parte delle crypto sta reagendo bene vediamo queste percentuali attenzione però ragazzi una correzione è sempre d'obbligo cioè non possiamo continuare a salire facendo un più 20% o più 30% ogni volta possiamo fare questo saliamo c'è del verde poi i prezzi riscendono c'è di nuovo una fase di accumulo di consolidazione poi i prezzi risalgono è impossibile sui grafici poter fare una cosa così e andare to the moon bisogna sempre salire resistenze supporti consolidare resistenze supporti fare cose del genere perché così la move è molto più vera e non è finta non è manipolata detto questo ragazzi cosa importantissima ancora registratevi a bit get con il link che è qui in basso in descrizione perché avete il 5% di sconto sulle fees avete anche fino a 5.000 dollari di bonus cioè in pratica depositando i vostri soldi sbloccati dai bonus che potreste sfruttare per fare trading per elevare tutte queste cose qui e soprattutto ancora tramite bit get avete anche la possibilità di dedicare una piccola percentuale del vostro capitale per fare trading ripeto il link qui in basso in descrizione avete anche il 5% di sconto sulle fees per sempre ragazzi per sempre significa che sempre risparmiate il 5% di fees non è per niente male detto questo ragazzi come al solito vi aggiorno sempre per quanto riguarda crypto.com la mail che ho ricevuto per quanto riguarda la maggior parte delle crypto siamo su livelli abbastanza interessanti però attenzione ve l'ho scritto anche su telegram mi avrebbe detto ragazzi buongiorno con tanto verde video a breve perché ovviamente vedere queste cifre è molto molto bello fa bene anche alla nostra psicologia perché se investiamo vogliamo vedere anche dei profitti e vedere un più 20% sul portafoglio ogni tanto fa molto molto bene e quindi seguitemi su vari social che sono qui in basso in descrizione attenti ai social finti come instagram telegram finto perché vengono utilizzati per rubare soldi a voi iscritti quindi super super attenti ve lo dico col cuore i social veri sono qui in basso in iscrizione dategli assolutamente un'occhiata detto questo ragazzi grazie mille a tutti per la visione di questo video se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace per supportarmi se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale per continuare a guardare altri video del genere noi ci vediamo domani se c'è qualche aggiornamento importante se no a presto ciao a tutti